Amici di Twitch, buonasera a tutti! Stavo dicendo Instagram! Non stavo dicendo niente! Sì, lo stavo dicendo! In realtà, in realtà, Luciano, io sto ancora male con la gola e quindi mi sono preso amici di quel momento di pausa per farla riposare e poi Twitch, capito? Invece voi, ma le lingue, avete subito pensato che stavo sbagliando social. Era una pausa. Era una pausa, buonasera a tutti e benvenuti in questo 199esimo episodio di Live Talks, cioè per chi si è connesso adesso magari... Eh, ma che cos'è Live Talks? Live Talks è quel format che va a invitare quelle che sono le eccellenze all'interno della cultura pop, nei vari ambiti. Quindi parliamo di recitazioni, di doppiaggio, di fumetto, di gaming, di creazioni di contenuti, di musica, di regia, di sceneggiatura, veramente di tante cose belle di VFX. E stasera abbiamo con noi veramente un ospite d'eccezione che siamo veramente molto felici e ringraziamo fin da subito per aver accettato l'invito, che è Gianni Bersanetti. Ciao Gianni, benvenuto! Buonasera a tutti! Un saluto agli affezionati, ai meno affezionati, a quelli che per la prima volta si sono affacciati a questa finestra. Grazie di avermi invitato a questa vostra trasmissione. Grazie a te! Grazie a te, grazie a te! Comunque, comunque io vi vedo e andiamo a fare innanzitutto i saluti. Salutiamo ovviamente i nostri moderatori, che sono la polizia del canale, quindi chi entra in chat ed è magari scortese o potete dire quello che vi pare, però con cortesia. Quindi fate i bravi. Poi ci sono i nostri VIP, che sono gli affezionatissimi del canale, Mr. Lannister e Simona. Ovviamente un saluto anche a tutti gli altri che sono connessi. Ciao a tutti gli altri! Vi vedo, insomma, giusto per citare qualche nome, Willow, Cicciomora, Zio Fester, fighissimi, fighissimi. Allora, noi andiamo a ricordare l'ovvio, che sono i comandi chat, li dirà oggi proprio per fare un qualcosa di diverso Spanchi. Spanchi, e poi iniziamo con la prima domanda. Spanchi, mi raccomando, anche perché abbiamo Gianni che è veramente forte e tu stai studiando, c'è da dire Gianni che lei sta studiando anche recitazione e doppiaggio, quindi sappi che se farà schifo non c'è. Questo mi era stato nascosto, non accanto il luogo in cui ci siamo incontrati la prima volta. Ah, vedi, 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 quindi sappi che quando tu la sentirai e farà schifo non avrà una giustificazione perché sta anche studiando, capito? Che ne hai iniziato, vedi. Insomma, hai 55 anni, Spanchi. Quanti? 9. Comunque, dai, mi raccomando, forte, 3, 2, 1. Questo è il buio iniziale per darti la carica. No, 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 da me il suono è carino. 3, 2, 1. Questo? Sì, grazie. Punto esclamativo Telegram, è gratuito, momenti meme e programmazione. Punto esclamativo Sub, dai 3,99 euro al mese in su, gratis se avete Amazon Prime. Non vedete le pubblicità, recuperate i VOD, usate le nostre emoticon, entrate nel nostro gruppo personale dove ci siamo noi che scriviamo e anche alcuni ex ospiti. Punto esclamativo ospite, nome e cognome del nostro ospite di stasera, mi raccomando, seguitelo in qualche modo, fate voi, apprezzatelo, fate come vi pare. Punto esclamativo Quote. Pesca una frase storica, detta da noi o dai nostri ospiti, che volenti o nolenti è rimasta lì nell'epicità del programma. Chissà se questa sera ne uscirà qualcun'altra. Chi lo sa? Punto esclamativo partners, i nostri fantastici social partners. Punto esclamativo website, il nostro sito fantastico. Ragazzi, do, na, te. Chi sono i partner? Che insomma, insomma. Monkey Beat, le voci del doppiaggio e roba da doppiatori, Lucio. Come fai a non saperlo? Allora, io non voglio dire niente per andare a condizionare Gianni. Però Gianni, insomma, come è stato? Anche vale provino questo. No, lo dovete sapere prima, allora. Beh, ma solo io può essere all'oscuro, pure voi dovete essere all'oscuro. No. Quindi come sta? Ha fatto schifo, vero Gianni? Ha benissimo, va benissimo. Ha benissimo. È una sciolta, veloce, chiara. Grazie, ma meno male. È un buono. C'è stato giusto qualche esempio, un po' aspore, ma andava bene tutto. Poi comunque queste sono cose che ormai non interessano quasi più, quindi almeno, ma poi ne parleremo magari. Migliorerò. Cavolo, cavolo, e niente. A differenza del tuo maestro Massimo Corvo, lui almeno ti ha fatto i complimenti. Uno dei. Massimo ti ha distrutto. Massimo ti ha distrutto. Ah, il grande Massimo. Sì, sì, si l'ha massacrata quando è stata in diretta a noi. È vero. Che nonostante si applica però i risultati rimangono quelli. Calcola che loro due mi, cioè, capito? Mi bullizzano quasi, eh. Sì, Lucio, tu soprattutto, Lucio. Lucio, non un pochino sì. Mi chiamo Bulla, capito? Esatto. Allora, Gianni, guarda, io ti andrei a porre la prima domanda che è uguale per tutti ed è l'unica che abbiamo preparato, perché è la stessa da 199 episodi e ci piace, insomma, vedere come... Questo numero mi piace, 199. 199, bello, vero? Più uno. Più uno. C'era una famosa frase di un film del neorealismo che finiva con... No. E andate a vedere che cos'era. Ah, vedi. Neorealismo. Più uno. Più uno. Neorealismo. Se non sbaglio, vi do un altro indizio. Soldati. Soldati. Chatto, voi dateci qualche suggerimento, vi dice qualcosa a voi, così vediamo intanto se loro sono preparati. Allora, la domanda è questa, porta con sé un piccolissimo preambolo e ti vado a fare solamente perché piace alla chat. Noi magari usciamo la mattina, incontriamo, che ne so, un numero X di persone, tipo 10, in base a come ci poniamo con loro, a come ci siamo alzati, a loro come ci... Magari avranno 10 immagini differenti di come noi possiamo essere, no? Però dal nostro punto di vista è interessante vedere come il nostro ospite vede se stesso. Quindi io ti andrei a chiedere chi è Gianni, non tanto dal punto di vista professionale, perché poi ne andremo sicuramente a parlare, quanto proprio come ti vedi dal tuo punto di vista per quel che riguarda hobby, passioni e aspetti caratteriali, magari per il lato hobby e passioni che esulano a quello che è l'aspetto prettamente lavorativo. Poi ti dico da un epitraffio, sulla mia tomba voglio che ci sia scritto, non portò a termine niente. Ma non è vero, è vero? E invece è vero, vabbè sono in buona compagnia, perché mutate mutandis, ma Leonardo da Vinci pure alla fine non ha portato a termine quasi nulla, però non voglio nemmeno lontanamente paragonarmi al genere, però insomma ecco, diciamo che tra i miei hobby, le mie attività, i miei modi di vivere eccetera eccetera, quello che mi manca è di portare a termine veramente qualcosa fino in fondo e se volete vi faccio un escurso, se io vado da quando sono nato a oggi praticamente. Eh beh beh, perché no, perché no, adesso anche noi siamo incuriosi, in che senso non, perché non? Beh allora per esempio, vabbè io vengo da un liceo famoso che era a Miani, a Roma, al liceo classico eccetera eccetera, iscrizione all'università e non ho portato a termine all'università, perché non l'ho portato a termine sarebbe lungo spiegare, però insomma diciamo alla fine un po' per cattiva volontà, perché alla fine ci vuole soltanto più che altro quella, però insomma una volta c'era il militare di leva e la mia facoltà, io avevo già una tesi che però aveva bisogno di un po' di amici che mi dessero una mano in archeologia e quindi sono un mancato archeologo, io in quel periodo pensavo che avrei fatto l'archeologo e il mio lavoro ancora non si era sviluppato, io ho cominciato intorno ai 16-17 anni a lavorare, chiaro, pensando che sarebbe stato un modo per sbarcare lunario e diciamo avere la paghetta a fine settimana, una volta si diceva così, adesso non so neppure se si dice in questo modo ancora, diciamo che in quel periodo non sono riuscito a portare a termine il mio percorso di studio, poi ho cominciato a fare altre cose, dal tennis che non l'ho portato fino in fondo per esempio per quanto riguarda gli sport, al tiro a segno che non l'ha portato fino in fondo nonostante i primi risultati buoni, mi sono sperimentato in tante tante cose, al tiro con l'arco per modo di dire, però quello che mi è mancato sempre è arrivare al fondo della questione, esprimermi come volevo, avendo il tempo di esprimermi come volevo, senza però dimenticare tutto quello che avevo fatto fino a quel momento e quindi continuando a tenere tante cose in piedi e non ci sono riuscito, infatti sono qui che parlo con voi e un po' me ne tolgo, è la prima volta che mi fanno questa domanda, che fai? Tossisci? Spanchi? T'ho visto? Ti vedo? Stai tossendo ma ti sei tolta da... Ho mutato per non disturbare. Io mi sto tenendo al limite perché ho l'allergia pure di questo periodo, quindi nonostante gli antistamini ci sto con la tossetta che sta per arrivare a comenta là. Gianni tu puoi anche tossire tranquillamente, hai intonato anche la tua tosse, quindi puoi farlo. E quindi insomma ci sono parecchie cose che ho iniziato e lascialo sempre un po' a metà perché mi interessavano anche altre cose. Posso parlarvi, che ne so, dell'astronomia. Mi sono sperimentato e mi sto sperimentando ma non sono ancora arrivato a fare certo tipo di astrofotografia che vorrei perché nel frattempo mi sono perso su altre cose, insomma il mio destino, il mio modo di vivere, il mio modo di essere. Che bello. In qualche modo devo dire che mi mancano tante cose però a queste non rinuncerei, a queste non rinuncerei e quindi c'è questa insoddisfazione di fondo ma sono insoddisfazioni che comunque ti aiutano anche a vivere secondo me perché ti spingono sempre ad essere curioso, a trovare qualcosa per cui vale la pena di vivere anche in momenti in cui magari sei più depresso, in momenti in cui sei meno attivo, sei fisicamente giù. Questo serve, questo serve. Bello, bello. Mi è piaciuta come risposta. Mi è piaciuta molto, mi è piaciuta molto. Ma è bello. Comunque, di tante interviste che mi hanno fatto questa volta esordisco con una cosa che in pochi sapevano. Vedi? Ah che bello, che bello. Che poi è una cosa molto affascinante perché io in un certo senso mi ritrovo un po' nella tua descrizione, no? Perché effettivamente anche a me piace iniziare tante cose, però poi effettivamente in quante di queste le porto a termine o magari divento bravo? Poche, però il fatto di iniziarle poi mi consente di avere quelle competenze di base, chiamiamole così, che di cui comunque me ne fanno godere e mi fanno divertire poi quando le faccio. Penso anche io, ho fatto magari qualche anno di tennis oppure ho iniziato a suonare il pianoforte, no? Con un maestro, mi sono fermato. Ecco, quella mi manca. Una cosa che mi manca veramente è uno strumento musicale ed essermi dedicato alla musica. Questo tornando indietro lo faremo. E quello l'ho tralasciato e mi è dispiaciuto tanto. E perché tornando indietro lo puoi ancora fare? Beh, insomma, vuoi mettere suonare la chitarra con le dita? La volontà di cui? No, no, le dita dei vent'anni, non so, le dita di 64. Non lo so. No, lo saprai, ti accorcerai. Quindi come strumento avresti scelto la chitarra? Beh sì, perché è facilmente portabile dietro, è portabile. Se avrai usato uno strumento da portarmi in giro, insomma. Ma se è più da chitarra elettrica o da chitarra classica? Cioè ti piace più il rock? Ma tutte e due. Tutte e due. Io sento tutti i tipi di musica, esclusa gli ultimi sviluppi. Non mi piace la techno, non mi piace molto il rap. Però insomma tutto il resto l'ho sentito, ho ascoltato. La donna di concerti sia di musica classica, sinfonica che rock. Sono molto legato al rock dei miei anni, di quando ero giovane. Quindi progressive negli anni 70, primissimi 80. Il rock di adesso lo vedo un pochino moscio, senza grandi idee. Ma d'altronde quello che penso è anche che i giovani in questo momento, nel momento in cui parlano ad ascoltare un musica, un gruppo, sono costretti a sentire quelli che una volta si chiamavano album, con 12-13 brani fatti in sei mesi, tre, due, uno. Noi quando usciva un disco dei Genesis lo aspettavamo per tre anni, quattro anni. Andavamo a fare la fila fuori dei negozi per prendere un 33 giri, non vedevamo l'ora di arrivare a casa, li metterò là sopra, ma dietro c'erano stati tre, quattro anni di lavoro, di gente che sapeva suonare benino. E adesso come fai a uscirtene con idee, con musica, melodie, testi, non dico straordinari, ma buoni, belli, in tempi così brevi? È assolutamente impossibile. È vero. E quindi di questo un po' mi accorgo, perché posso fare dei paragoni. Vedo anche, leggendo le statistiche, che ancora adesso la musica di cui sto parlando io è la più scaricata dalla rete, nonostante che è una musica antica, perché veramente ormai si parla di 35-40 anni fa, però continua a essere in percentuale, in percentuale, la musica più scaricata dalla rete alla fila. E poi ci sono i genitori, ci sono i fratelli maggiori, che comunque riescono a trasmettere un certo tipo di educazione musicale. Poi naturalmente si trovano sempre belle canzoni, bei testi, buoni gruppi, però è più difficile, è più difficoltoso. È vero. È sempre più raro, anche perché sì, come hai detto te, adesso si trovano anche persone. A me viene in mente, ti hai parlato anche del lato musicale, di gente che sa suonare, ma adesso è difficile anche trovare gente che sa cantare, perché usano tutti questi autotune, quelle cose che anche una capra fanno diventare intonata. E poi li senti dal vivo, questa è una cosa insentibile. Quindi si è persa anche la bravura nel canto, quello che è il cantante in realtà. Non c'è quasi più. Sai che c'è, non c'è il tempo per prepararsi, non c'è il tempo per arrivare al primo brano, al primo disco, alla prima esibizione, con un rispetto alle spalle notevole, o perlomeno importante. Questo lo vedo capitare sempre più spesso. Io non sono un intenditore, non sono un musicologo assolutamente, non sono un giornalista che si occupa di, però insomma ne conosco. E più o meno tutti quanti quelli con cui parlo hanno più o meno la stessa mia idea, ecco. Che è complicato adesso. È molto semplice farsi vedere, almeno all'inizio, ma è complicato reggere. Fare i maratoneti è più difficile che fai 100 metri, in questo senso, nel senso della durata. La qualità o ce l'hai o a lungo. Poi naturalmente il genio c'è sempre, quello bravo uscirà sempre, però ci sono molti buoni professionisti, sicuramente ottimi professionisti, che non riescono a uscire come avrebbero il diritto di uscire, perché non fallo in tempo, materialmente rincorrono, rincorrono, rincorrono e non ritrovano a traguardo della durata. Adesso c'è il fenomeno Maneskin, è un gruppo che francamente non seguo, quindi non posso giudicare. Il look è molto importante, per quanto mi riguarda non riesco a trovare un elemento che mi acchiappi. A me personalmente, e non dico il resto del mondo, al resto del mondo onore al merito, sono riusciti ad arrivare dappertutto, hanno delle idee formidabili, che vorrebbero tornare anche a risuonare in strada, che è una cosa bellissima, e gli auguro di poterlo fare. Credo che sarà molto complicato. Ultimamente ho letto anche di un compleanno che non si sa bene dove verrà festeggiato, o sbaglio. Venitemi incontro voi, che siete sicuramente più ferrati in materia. Devo dire che i Maneskin... No, non mi ricordo neanche di che compleanno si... Io i Maneskin li seguo, perché non li trovo. Allora, forse ho letto male io. Mi pareva che dovessero festeggiare un compleanno di Damiano qualcosa. Ah, è stato festeggiato. E sono ancora molto misteriosa. Però potrei sbagliarmi. Ok, no, no, può essere, può essere. No, è vero. Ma a proposito di musica, dato che hai detto che hai visto vari concerti, ce n'è uno particolarmente a cui sei più legato per sensazioni, emozioni, per vari motivi magari? Però se dovessi sceglierne uno, il primo che ti viene in mente o quello che pensi con più? Allora, io mi sono formato in una cultura, sicuramente che adesso non esiste più, ma insomma diciamo una cultura fondamentalmente di sinistra. Quando ero giovane, ho partecipato a tante manifestazioni, a tanti momenti di incontro, chiamiamoli così. Adesso ci sono meno occasioni di fare questo. In quel periodo lì ci sono stati tanti concerti a cui ho assistito che mi sono rimasti nel cuore. Dalla premiata Foneria Marconi a Guccini, a Delgore. Quelli sono stati i miei, tra virgolette, maestri musicali. E ancora adesso, se devo pensare a un concerto, a dei concerti, penso a concerti di quel periodo, che andavano dai metà anni 70 a metà anni 80. Poi ne ho visti infiniti altri. E poi sono andato a tanti concerti di musica classica e sinfonica, anche per motivi di lavoro, perché io ho lavorato per dieci anni come annunciatore radiofonico, radiofonico, interno RAI. Nella fattispecie ero tutte le sere o quasi della settimana su Radio 3, che è la radio, diciamo, di spicco culturale, seguita sempre meno, purtroppo, ma sicuramente una radio importante dal punto di vista della cultura. E lì anche i concerti ne ho visti tantissimi. Uno dei più importanti a cui ho assistito anche lavorativamente parlando è stato un concerto straordinario. Non era un concerto, era la rappresentazione di un'opera lirica con Zubin Mehta che dirigeva in pieni luoghi di Tosca, se non sbaglio, che è stato fatto tutto in diretta. Una cosa che poi ha venuto in tutto il mondo. Se pensate che l'orchestra sinfonica era quella della RAI, radio e televisione italiana, come annunciamo io, diretta da Zubin Mehta, si trovava a Via Asiago, la sala più grande di Via Asiago, la sala A di Via Asiago, e i cantanti hanno cantato in diretta, con in cuffia, l'esecuzione dell'orchestra nei luoghi e nei tempi di Tosca. Quindi, erano a Castel Sant'Angelo, il suicidio in diretta la mattina, hanno cantato di mattina le 5, perché lei si suicida buttandosi da Castel Sant'Angelo. Zubin Mehta lì, durante gli intervalli, perché c'erano gli intervalli naturalmente per i cambi di costume, eccetera, eccetera, se c'era una scena che non era venuta bene, c'è stata una, per esempio, il soprano a mezzo inciampato su uno strasce, eccetera, giravano subito quella scena lì per averla pronta per i cd che sarebbero stati venduti. Cioè, una cosa che adesso è ripensarci, mi vengono i brividi, io l'ho vissuta in diretta come ascoltatore e come annunciatore, perché facevo l'annuncio, il riannuncio di ogni atto, di ogni parte dell'opera ed era una cosa, ed è stato uno dei momenti più belli della mia, diciamo, carriera, chiamiamola così, di annunciatore. Adesso potremmo pensare qualcosa di simile? No, secondo me no. La RAI è quello che ormai è diventata, con la nascita poi delle nuove piattaforme, figuriamoci, diciamo, i nostri datori di lavoro di una volta, parlo anche come il doppiaggio, sono naturalmente un po' in difficoltà nei confronti di strapoteri economici come quelli appunto delle piattaforme, però tutto cambia, bisogna fare un viso a cattivo gioco, lottare quando ce n'è bisogno, affermando i nostri diritti e comunque adeguandoci per quanto è possibile alla situazione, perché chi è? Che diceva, come può uno scoglio arginare il mare? Insomma, questa è una citazione molto più più semplice da conoscere, perché insomma è un cantante piuttosto famoso, un cantautore piuttosto famoso, che ormai non c'è più da faricare. Vero, come può uno scoglio anche la cosa? Allora, io mi sento come uno scoglio che non può sicuramente arginare il mare. bene, bene. Io avrei un'altra domanda e poi lascio la parola alla nostra Spanchi a Luciano. Grazie. La mia domanda è questa, sono molto incuriosito dai sogni da bambino, cioè, e dal fatto se questi sogni di bambino vengano poi messi in atto, comunque si realizzino nel corso della nostra vita. quindi tu ovviamente sei un professionista incredibile, no? Nel tuo ramo recitazione. Anche lì, posso contraddirti in un secondo, anche lì avrei potuto usare molto di più. Diciamo che mi sono accontentato, tra virgolette, di certi, di certi successi anche, forse per mancanza di ambizione, forse perché non mi ritenevo abbastanza all'altezza. Non ho proseguito sulla carriera artistica, cercando di abbracciarla in toto, presentatore, attore di teatro, cinema, televisione, insomma, a me sembravano di aspirare un po' troppo in alto. È un mio limite sicuramente che mi porta anche al discorso che ho fatto precedentemente, però è andata così. Cioè, in pratica non credevi in te stesso? Sì. No, Gianni. abbastanza. Perché non si può? No, no. No, non si può perché già avevi delle conferme della tua bravura in alcuni ambiti e avresti sicuramente le ho avute, però avrei potuto espanderle in tanti sensi, in tanti modi e non l'ho fatto. È andata così. Non mi va neanche di piangere troppo sull'altezza. quello che c'erano, ecco. No, 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 quello no. Però, però, alla fine quello che hai fatto rispecchiava quello che volevi fare da bambino? Non come... No, no, assolutamente. Cosa volevi fare invece? No, no. No, io pensavo proprio di diventare archeologo. È una mia grande passione che continua ancora adesso e pensavo proprio che quella sarebbe stata la mia strada. Ok, quindi l'archeologo... Perché forse è la passione più grande che ho avuto. Diciamo che il doppiaggio è arrivato come, non dico ripiego, figuriamoci, è arrivato appaiandosi a questa cosa qui e l'ha man mano scansata, l'ha allontanata. Però il discorso dell'archeologia per me rimane molto importante. Adesso, per esempio, le ultime scoperte che ci sono sono da San Cian e mi hanno affascinato molto. Era una cosa a cui andavo dietro da parecchio con quella zona lì del Basso Senese. Insomma, rimane ancora qualcosa che mi aiuta a vivere bene. Ok, ok. Ovviamente non c'è. altri sogni da bambino particolari non ne avevo. Volevo fare il palombaro. Il palombaro sì. Il palombaro sì. Mi piaceva il casco bello grosso con l'oblò davanti e le bolle che uscivano qua. e poi il cowboy perché appunto le pistole andavano. Un giorno mi sono incontrato con un tizio che aveva dei problemi mentali poverino però era un adulto ed era vestito da sceriffo e anch'io era vestito da sceriffo. Abbiamo fatto un duello in mezzo alla strada io sei anni e lui penso una trentina memorabile. ci siamo sparati addosso e poi ci siamo abbiamo riso come pazzi. Bello. Che figata. Che figata. Però bello oh belli bei sogni da bambino il palombaro il cowboy e l'archeologo io poi come penso all'archeologo mi viene subito in mente Indiana Jones è più forte di me. Beh sì. Beh quella è la parte misteriosa è la parte diciamo affascinante della professione che invece è una professione molto complicata purtroppo da fare perché ho tanti amici che insomma per arrivare a fare qualcosa ne hanno hanno impiegato tanto tempo e alcuni che ancora devono devono lottare perché questo è un paese che purtroppo nonostante abbiamo quello che abbiamo come patrimonio artistico a livello mondiale siamo sicuramente i numeri uno non mettiamo in condizioni i nostri giovani di poterne usufruire anche lavorativamente parlando purtroppo siamo in queste condizioni e questo mi dispiace molto io parlo in questo caso di tutta la parte artistica e di tutte le professioni che si possono che potrebbero esplodere in questo campo e che per motivi ormai dal dopoguerra almeno dal dopoguerra è stato un continuo a incorrere leggi leggine per tentare di far lavorare e non ci siamo riusciti non ci sono riusciti non ci siamo anche io mi ci metto dentro insomma perché comunque ho fatto parte di quel mondo chiaro chiaro ok ok grazie spanchi prego grazie grazie e io Gianni vorrei chiederti se c'è e se ti va di raccontarci un come possiamo dire un momento uno scoglio che hai superato brillantemente quindi con successo e se ci puoi dare qualche consiglio per superare i momenti no in generale ma guarda scogli particolari per arrivare a qualcosa non ho mai trovato nel senso che ogni volta che torniamo al discorso di prima sono arrivato sempre abbastanza preparato alle cose che avrei dovuto affrontare quindi quando ci ha sbattuto contro il muso ero pronto quindi si è portato faticato però non in modo particolare per nessuno non mi ricordo un episodio particolare ma forse forse la selezione per annunciatore che ci fu nell'86 87 e lì lì fu una cosa dura su riuscire a superare era l'ultima selezione nazionale d'annunciatore che faceva la Rai e lì quando alla fine mi dissero che ero tra i 10 15 che erano stati scelti per essere utilizzati a tempo determinato in Rai devo dire che no quello sicuramente di grande soddisfazione e poi il primo provino possiamo dire il primo provino di doppiaggio quello ancora me lo ricordo bene perché in quel momento stavo ancora studiando lavoravo poco in qualche turno a settimana quando stava bene due o tre turni a settimana ma mi andava benissimo perché pensavo che non sarebbe diventato un lavoro pensavo più alla parte speaker eventualmente che non a quella dell'attore del doppiatore e c'era una signora che chiamava per assegnare i turni e che mi aveva molto in simpatia Giovanna che ricordo con tanto piacere un giorno mi chiamava lei era una cantata piuttosto delle spicci Gianni che fai un bucione basso Gianni che cosa fai mi dico niente sto a casa sto studiando va bene senti mi devo dare i turni della prossima settimana mi dico va bene Giovanna dimmi allora guarda sei in Fono Roma lunedì c'hai il primo il secondo il terzo martedì c'hai il primo il secondo giovedì c'hai questo mi dico Giovanna so Gianni ma chi mi hai scambiato mi stai dando tutti questi turni perché che cosa dici Gianni perché non ti do da tutti questi turni hai vinto il provino su il caso Tony Riley avevo fatto un provino ma convinto che non sarei stato scelto ancora mi ricordo che fra i 3-4 provinanti c'era Rubini Sergio Rubini che era già bravo un attore già giovanissimo anche lui come me ma insomma stiamo parlando di un attore contro guglioni come direbbe qualcuno e mi dico è sicura gli hanno mi sentito fare il cretino allora hai segnati tutti dico no no aspetta non ho scritto niente aspetta un attimo ricominciamo ridi ecco quella è stata una cosa appunto che mi ha fatto vedere è stato il primo provino che ho vinto con la Sass dell'epoca la società che all'epoca appunto con la quale all'epoca lavoravo e quello sicuro ricordo molto bene era stato uno scoglio ma uno scoglio che secondo me inavvertitamente avevo sfiorato ma che mi avrebbe lasciato lasciato indenne da tutti i punti di vista bene è arrivato preparato anche lì quindi il consiglio amici noi e della chat mi raccomando arrivate preparati allora anche questo però ve lo dico io però c'è tanta gente io invece eri assolutamente preparata e siccome ci sa fare ci riesce ugualmente io non ho mai conosciuto ma mi dicono per esempio quando stavo in radio mi raccontavano di Gianni Boncompagno insomma una delle figure di spicco più importanti nell'evoluzione della radio e anche della televisione lui non si preparava niente andava come andava e non si può dire che non fosse bravo al contrario di albore che mi dicono io non ho conosciuto né l'uno né l'altro invece era uno che ci teneva a preparare la trasmissione Boncompagno non è mai voluto sapere niente tutto all'impronta viene meglio viene meglio quindi ragazzi le scuole di pensiero sono infinite e ognuno si deve misurare con il proprio carattere la propria spiritualità la propria concentrazione ci sono certi che possono andare tranquilli senza concentrazione io se non sto lì con i paraocchi che penso mille volte a quello che devo fare non do neanche il 10% di quello che potrei rendere è vero è vero per la scuola di pensiero è vero anche nel nostro caso anche nel nostro caso c'è chi si prepara i programmi le trasmissioni con la scaletta tutto perfetto noi no noi andiamo vediamo che succede però sono belli entrambi cioè nel senso se poi sono ci sono esempi riusciti in un caso e nell'altro nel senso non è che uno esclude l'altro esattamente infatti io ho detto questa è la mia scuola di pensiero perché sono fatto così ma per altri potrebbe non essere la stessa cosa anzi non è la stessa cosa chiaro chiaro allora prima della domanda di Luciano facciamo un refresh perché mi dicono siamo leggermente in asincrono proprio un secondo vai refreshati refresho si dice refresho refresho mi sono refreshato hai visto Spanky eccolo purtroppo è tornato ti piacerebbe che mi levo sì lo sai ma lo sai che ti stuzzico chissà se questo bruttissimo mal di gola e il relativo dolore sei tu che me la stai tirando Spanky guarda io inizio a avere i miei dubbi no perché mi servi professionalmente quindi no a che ti servo professionalmente eh sì sì io sono sicuro che sei te che me la stai tirando perché 15 giorni che non passa se avessi questi poteri fidati non ti guarderei proprio ho la tonsilla sinistra che ho un pallone adesso inizio a fare tipo mongolfiera Spanky guarda se sei tu me la lega al dito sappilo non sono io comunque ora ti vediamo tutto bello refreshato grazie Mr. Lannister sono refreshato Luciano prego Luciano vai vai che ti vedo lì che stai a mo' però prendo spunto da un tuo ruolo iconico che è Fox Mulder ecco già frega le domande dalla chat è una cosa incredibile Raga voi in chat non le fate le domande perché tanto sappiate che ogni trasmissione c'è Luciano che ve le frega quindi è inutile che voi fate le domande perché non voglio fregarla perché voglio proprio vedere dai Luciano dove vai andare a parare dato che appunto anche prima ci hai dato uno spunto che sei appassionato anche di astronomia volevo chiederti non dico che se la verità è là fuori ma volevo chiederti c'è qualcosa magari dopo aver doppiato tutti quegli anni quel personaggio se ti ha portato anche a te ad appassionarti magari a quel genere lì anche se esiste l'area 51 se esistono gli alieni oppure semplicemente no ecco la cosa appunto con l'astronomia magari a me mi trovo in profondo disaccordo a me mi proprio a me mi ah eh lo so allora nella coppia Claudia Catani straordinaria attrice doppiatrice amica bella ragazza eccetera eccetera chi doveva fare quel ruolo sarebbe stata lei cioè era lei quella che era molto più appassionata a questo genere di cose se non io e non io cioè era lei lei avrebbe lui non c'era il giorno che abbiamo tutto Claudia non c'era eh non c'era lei è portata in quella direzione io no io sono un santommaso di quelli secondo me gli uso gli UFO allora prima di tutto che cosa si intende per UFO io dico semplicemente non è che lo dico io diciamo che chi contesta la teoria che qualcuno sia arrivato davvero sulla superficie terrestre parla di finestre temporali no cioè diciamo che due civiltà agli antipodi degli universi non dell'universo ma degli universi per incontrarsi dovrebbero comunque arrivare a uno sviluppo culturale e trasmittivo chiamiamolo così trasmittente nello stesso identico periodo e momento ora è naturale poi che negli ultimi anni ci sono stati ci sono state tante scoperte i buchi neri la possibilità abbiamo visto tanti film su questo però ecco io la vedo ancora come fantascienza e poco come scienza forse ci si arriverà a a a a disgregarsi in atomi e a viaggiare attraverso un wormhole bucare chissà dove un altro universo non dico di no però lo ritengo estremamente improbabile ritengo estremamente improbabile che questo sia accaduto a noi sulla terra poi qui scatenerò chissà e che inferno però ecco fox molder con me avrebbe sbattuto la faccia contro un muro perché no hai capito hai capito io sarò doppi complimenti perché a noi ci hai fatto credere di credere sì 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 poi sai la verità è là fuori insomma questa frase qua è talmente iconica di tutto quanto anche se anche se quella traduzione adattamento del là fuori a me non è mai piaciuto out there in quel caso non significa là fuori significa altrove è da un'altra parte non è là fuori qui l'out there che molto spesso viene tradotto e adattato male in tante serie perché ormai fa icono ormai è diventato quello non significava quello è altrove è da un'altra parte è da raggiungere solo che valo a dire in due parole due quando devi doppiare qualcosa e quindi si è arrivati a questa soluzione di una traduzione abbastanza letterale ma in fondo che tradisce lo spirito della frase stessa hai capito eh sì molto bello figo figo tanto per citare no Luciano no hai fregato la domanda a Willow che ha scritto è la mia domanda l'ho proprio vista Willow ha proprio scritto è la mia domanda è la domanda mia hashtag Luciano pessimo quindi anche io ho la schermata si è la schermata oh puoi di quello che ti pare puoi di quello che ti pare ma ogni volta sei l'unico che in chat dicono che gli freghi le domande tutte le dove dirette c'è una domanda personalizzare così tanto la mia domanda io adesso mentre chiacchieriamo vado a trovare la domanda è Willow e voglio vedere c'è scritta esattamente allora Willow buonasera a me streamers e carissimo ospite a proposito X-Files ma lei crede nella vita extraterrestre in altri misteri simili grazie di essere qui con noi stasera è un po' la tua domanda aspetta però c'è una piccola differenza lei crede nella vita extraterrestre è già diverso io non nego che da altre parti ci sia qualcuno o qualcosa assolutamente no cioè ormai abbiamo visto che questi 13 14 16 miliardi di anni luce che ci separano dal dal redshift da questo rumore di fondo che ci arriva dell'esplosione del big bang che ci dovrebbe essere stato ci dovrebbe perché poi ovviamente non tutti sono d'accordo non nego assolutamente che ci sia qualcosa da qualche altra parte anzi lo ritengo altamente probabile la vedo difficile che siano riusciti ad arrivare qua e che ci sia un cadaverino traiato così sull'area 51 e che abbiano fatto un'autopsia questo questo ci credo poco ciò non toglie che tanti piloti di jet con anni e anni sulle spalle di carriera abbiano visto degli UFO cioè degli oggetti volanti non identificati ma non identificati non significa che siano necessariamente extraterrestri quando lo stealth l'apparecchio bombardiere americano adesso ne sta uscendo un altro che uscirà tra i 10-15 anni super veloce super invisibile e appunto furtivo quando lo stealth veniva provato sui cieli dell'Arizona chi lo vedeva ma che cosa doveva pensare quello è l'UFO sono arrivati gli extraterrestri poi dopo 15 anni ci siamo accorti di che cos'era ora io la sto molto semplificando ma magari sono arrivati mi giro e c'era uno dietro però ecco credo che sia complicato sia difficile sia altamente improbabile che ci abbiano fatto visita non voglio neanche arrivare a parlare da archeologo che dice che le piramidi hanno fatto i test extraterrestri inbraccio il fucile con cui so sparare molto bene è certo perché lo centro dove magari poi si scopre che spanchi Rettiliana non lo sa se Rettiliana spanchi no no però sono d'accordo vedo linghe bifide no sono d'accordo comunque che voglio dire sarebbe uno spreco di spazio come dice un altro vecchio film se fossimo soli nell'universo ammazza se sarebbe uno spreco di spazio io credo fermamente che adesso la ricerca dell'acqua l'acqua non significa necessariamente vita però quando si troverà sarà un grosso passo avanti per ora si diciamo che è stata trovata ma non nella forma che uno vorrebbe eccetera eccetera ma insomma discorso troppo oltre tutto non sono neanche capace in grado di affrontarlo scientificamente parlando per uno dei miei tanti limiti perché arrivo fin qui e poi con la pagina in più non la vado ad aprire non la vado a girare ma non la studiare che poi cioè che c'è una cosa storia sì sicuramente sei stato iconico con il personaggio di Mulder frega un'altra domanda la chat dai fregane un'altra tira fuori un altro ruolo insulente ma allora sei tu il bullizzato non spanchi esatto questa sera Gianni io devo fare da filtro tra la chat e noi perché poi dopo si incavolano con me e dicono Luciano ogni volta mi frega le domande ho solo adorato la sua la sua parte in Zoolander dove ha fatto il manista il manista il manista il manista lì c'è un altro un altro particolare un altro particolare che è soltanto un esperto di armi fino a un certo limite come me poteva cogliere a un certo punto si parla di una Colt Python 357 Magnum 6 pollici definita Blue Steel acciaio blu perché era una finitura particolare della Colt Python che siccome era molto costosa non si è fatta più si è fatta fino a un certo periodo e poi quando ho visto qualcosa sono andati a prendere il Blue Steel del 357 Magnum incredibile vabbè sono americani però ecco sono piccole cose che ogni tanto colgo qua e là e che comunque io ho fatto una delle mie attività negli ultimi anni è stata pure anche fare il direttore di tanti documentari i documentari vengono trattati in modo piuttosto con non curanza perché si pensa che siano solo stupidaggini eccetera che siano solo dei riempitivi e devo dire che vengono fatti per lo più abbastanza male io che sono uno molto curioso ogni volta che avevo qualche a fare con un documentario andavo a studiarmi le cose vedevo gli errori di traduzione che erano stati fatti le stupidaggini che si dicevano e uno dei casi in cui sicuramente mi sono impegnato di più è ogni volta quando si parlava di armi oppure di storia o di archeologia e anche alla base già all'origine mi sono accorto che ci sono degli errori tremendi su queste cose che io ho dovuto anche correggere spiegando pure al funzionario di turno ma dico guarda è qui in originale stanno dicendo una cazzata e io la devo correggere la devo correggere un altro dei motivi per cui molto spesso bisognava intervenire ancora adesso bisogna intervenire è contestualizzare la cosa a un certo punto uno degli ultimi che ho fatto riguardava Santa Sofia a Istanbul si dovrebbe dire Istanbul secondo il DOP dizionario di ortografia pronuncia però se dite Istanbul non venerà nessuno allora Istanbul che Ataturk nei primi anni del novecento fece diventare un museo usufruibile da tutti quindi non era più una adesso mi sfugge il termine una moschea e invece negli ultimi anni credo tre anni fa se non sbaglio quello che in questo momento tira le redini della Turchia lo ha fatto ridiventare moschea visitabile ma pur sempre moschea e quindi quella cosa a tutto tondo ecumenica di quel periodo che poteva essere appunto apprezzata da tutti in qualche modo è stata è stata limitata questo in un documentario dovevo dire che andiamo a visitare la Santa Sofia che è stata un e diceva che non è che era un museo praticamente e sì e io lì in quel caso ho dovuto contestualizzare e ho parlato con il funzionario e ho detto guarda che io non posso dire perché questo proprio ieri o l'altro ieri ha detto che è di nuovo una moschea allora ci sono tante piccole cose che anche su documentari apparentemente non così importanti non così fondamentali vanno verificate vanno verificate e se nei limiti del possibile aggiustate e riportate a quella che è la verità del momento beh questo ti fa onore mantenere la qualità in tutti sì guarda lo faccio non tanto lo faccio per tutti ma lo faccio principalmente per me cioè la troverei una mancanza di riguardo nei confronti di come sono fatto io che cerco di dare sempre un significato le cose il più vicino possibile alla verità certe volte solo verosimiglianza ma non verità però più di tanto non ci arrivo nemmeno io certe volte almeno verosimile certo almeno verosimile sì sì allora io andrei a far vedere lo schiacciami tutto poi facciamo la domanda dei social partner la fai tu anche dato che ti sei ricordato e poi andiamo alle domande della chat allora devi sapere Gianni noi aspetta prima vado a fare lo cambio schermata e ci metto noi abbiamo una collaborazione con un fumettista molto bravo che si chiama Simone Buonfantino e lui lavora per regolarmente per case come Marvel Comics DC Comics tutte quelle americane improntate sul lato supereroistico ma fa anche tanto altro e sceglie uno dei nostri talks a settimana e prepara uno sketch su magari un personaggio che hai fatto accordato la voce insomma quindi questa settimana lui ci ha preparato questo che adesso ti vado ti vado a far vedere vado a far vedere ovviamente anche tutte le persone che ci stanno seguendo io non l'ho visto io l'ho visto è fighissimo che prende proprio un momento di un personaggio di cui abbiamo già parlato in una specifica occasione insieme a Omer insieme a Omer tra l'altro Simone sì grandissimo perché mi ha sbloccato un ricordo che effettivamente è stata una delle puntate che mi ha divertito di più è bellissima guardate anche il simbolo FBI con la foto sua il nudo in mutanda e quindi beh poi Californication quindi quello che è arrivato esatto quindi insomma volevo chiederti innanzitutto se ti piace questo sketch che ha fatto Simone e poi se ci dai magari un ricordo di quella lavorazione già questo mi piace moltissimo già come vedo qua quindi ok ti piace bravo Simone piace anche a noi sì sì no devo dire ha azzeccato tutto ha azzeccato appunto il fatto che lui comunque sia è un bel narcisista quindi buttato là con gli slipini giusti giusti per coprire le putenda e la faccia e gli occhi un po' da pesce fracico come diceva Roma e lo sguardo sì sì tutto molto azzeccato molto azzeccato grande infatti scrivono bellissimo adoro bellissimo l'esilio è pazzesco è favoloso e per raggiungere qualcosa a questo io gli episodi che ho amato di più sono stati sempre quelli ironici ah io parlo della serie non naturalmente di questo che era invece gli episodi ironici mi hanno sempre fatto morire perché erano scritti molto bene recitati molto bene anche nell'ultimissima nella ripresa nell'ultima stagione c'è un episodio con con dei piccoli droni l'impossibilità di comunicare o quasi finisce poi con loro che si guardano un bancone di un bar e stanno tutte e due chattando sui cellulari poi si guardano non mi ricordo se si dicono delle cose ma comunque tutte e due poi rinunciano a questo benedetto o maledetto telefono per scambiarsi quattro parole però quell'episodio anche quello era molto ironico era molto sopra le righe per certe cose insomma mi sono sempre piaciuti molto quelli gli episodi quelli un po' più ironici sì sì assolutamente ma invece posso chiederti se hai magari dei dei ricordi riguardo proprio questa lavorazione specifica cioè quest'episodio di Simpson dove era presente anche Mulder c'è t'hanno chiamato e t'hanno detto devi fare Mulder però nei Simpson sì 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 non è stato niente di particolare di molto particolare mi hanno chiamato dicendo guarda che nei Simpson il personaggio di puntata in questo caso naturalmente sempre nel cartone Fox Mulder vuoi venire a fare io ma come no vengo sicuramente mi divertirò e infatti ci siamo divertiti in sala con tutto il gruppo e sono stato molto bene è stata però non c'è stato un episodio particolare che mi ha fatto che mi fa ricordare quel turno in quel turno ok ok no perché è molto particolare perché insomma i Simpson è stata una serie e continua ad esserlo tuttora ancora adesso e essere presente all'interno dei Simpson era un traguardo cioè tutte le più grandi star ma anche Totti volevano certo esatto e quindi immagino insomma non la sorpresa perché Mulder è comunque un personaggio super iconico cioè X-Files addirittura adesso tutti ricordiamo X-Files tutti ricordiamo Mulder e Schnelli e quindi però immagino un po' me lo aspettavo cioè ogni non dico serie però insomma ogni trasmissione in cui potevano essere invitate personaggi di un certo di una certa notorietà in quel momento comprendevano in quegli anni sicuramente quella serie cioè dal 93 94 in poi da quando abbiamo cominciato ci sono stati 7-8 anni c'è stato un bombardamento tale per cui dalle pubblicità delle macchine in televisione alle ospitate nei Letterman Show non mi ricordo cosa era un continuo era tra lui e Anthony Edwards di di AR sono stati anni che praticamente non facevano altro che essere invitati a destra e a sinistra quindi non sono rimasto così sorpreso quando mi hanno detto che l'ospite sarebbe stato appunto del tuo popolo te l'aspettavi ok ok chiaro Simone non me l'aspettavo però non mi sono stupito non mi sono stupito ok Simone infatti poi mi ha commentato credo che l'agente Mulder sia uno dei primi volti che associò a Gianni ho divorato tutti gli episodi di X-Files poi ricordo quello strano crossover con i Simpsons e ricordo quella come una delle puntate più divertenti in assoluto Mulder che si identifica ammiccando mi ha sempre steso tutte le volte effettivamente divertentissimo e poi appunto ce ne siamo accorti ancora di più riguardo all'amicamento con Californication lì mi sono veramente divertito c'erano delle scene che erano irresistibili poi con con il il suo come si chiamava quello che faceva Franco Mannella amico di famiglia che poi si mette con l'amica sua per latino insomma uno dei personaggi principali di Californication facevamo dei duetti con Franco era meraviglia certe volte riusciamo anche a lavorare insieme perché purtroppo uno dei dei dispiaci riguardo al nostro lavoro è che ormai siamo sempre soli in sala quando siamo al microfono le cosiddette colonne separate che probabilmente molti di voi quasi tutti conoscono perché siete esperti ormai anche voi di questo lavoro ci costringono a lavorare da soli davanti al microfono e in qualche modo ci tarpano un po' le ali perché una volta stavamo anche in 5, 6, 7 al microfono ed era una sfida continua era un rilanciarsi la palla un duello sono più bravo io riesco a dirla più velocemente io questo manca manca e inficia molto anche il risultato del lavoro secondo me e poi ti fa divertire meno se c'è una cosa bella è lavorare divertendosi a proposito di questo mi è molto piaciuto non c'entra nulla però uno sketch credo che fosse uno sketch di Panatta che incontra per chi non lo sapesse Panatta è stato un grande campione di tennis negli anni 70 anche più forte del mondo per qualche mese incontra in un aeroporto un ragazzo che gli fa delle domande che non ha la minima idea di chi sia lui per te che lui dice ah sì è Panatta ma lei per caso è parente del mio c'è un dirimpettaio un vicino di piano che si chiama come lei lui comincia a storcersi un po' che non ne sa niente e poi prima di andarsene Panatta gli fa sai una cosa che mi dispiace per te io adesso sto molto riassumendo è che tu non ti stai divertendo mentre l'amore io mi sono divertito quella è tornando appunto al discorso dello sport quella è la gente che la sera faceva tardi in birreria o in un ristorante sventrandosi con bevande e cibi e il giorno dopo scendeva sul campo da tennis e stiamo parlando di Borghe e Panatta non stiamo parlando di due signori nessuno che si divertivano adesso se vedi Natal prima del servizio basta quello basta quello a dire ma tu non ti stai a divertire poi vinci sei straordinario l'avresti ammazzati a quei due non c'è neanche da paragonare qualsiasi sport a quello che era 40 anni fa 30 anni fa però prima ci si divertiva un po' di più anzi parecchio di più e anche nel nostro pseudolavoro dico pseudolavoro perché comunque sia talmente nascosto è talmente strano da identificare certe volte quasi non riesco più a definirlo anche noi ci divertiamo meno ci divertiamo molto meno siamo costretti ormai a doppiare con bang bocche nascoste strisce che per non capire chi è che in quel momento per non spoilerare l'ultima serie di star war che se non si deve di chi è la solo perché poi bisogna uscire in diretta in tutto il mondo contemporaneamente e allora quello che succede in italia può essere hackerato e mandato sono tanti lacci e la cioglie sempre ricompliato firmi cose di riservatezza epiche multe sì mamma mia può riuscire sì praticamente anche se stai su Marte non puoi utilizzare no in tutto il sistema solare c'è veramente un contratto che dice qualcosa di simile cioè tu che non si può utilizzare che sono padroni di utilizzare la tua voce anche su su Venere e a quel punto esistono veramente i museani e quindi ho detto tutte cazzate fino a questo in realtà è Luciano sottomentite spoglie comunque grande Simone ci è piaciuto un sacco quindi grazie per questo sketch allora togliamo grazie anche da parte mia veramente un bel ricordo te lo facciamo avere poi Gianni te lo stampiamo carino grazie dove spanchi adesso potrà la domanda e poi andremo alla chat va spanchi benissimo vado allora Gianni roba da doppiatori ti chiede se potessi tornare indietro e ricominciare la tua carriera da capo faresti qualcosa diversamente faresti qualcosa diversamente che significa cioè che farei qualche altra cosa o faresti un ruolo diversamente da come magari accetteresti qualcosa che non hai accettato penso a livello di scelte cioè nel senso faresti le stesse scelte oppure cambieresti qualcosa penso che non riuscirei a fare scelte diverse per come sono fatto dovrei avere un altro carattere dovrei avere un altro un altro approccio alla vita proprio e credo che mi sarebbe impossibile fare scelte diverse a meno di cambiare totalmente testa ma allora sarai un'altra persona certo quindi anche diciamo anche se ci fosse stato qualcosa che tu a posteriore dici magari però non l'avresti comunque cambiato perché questa è la tua indole difficilmente ho avuto il carattere la forza la determinazione per riuscirci chiaro questo lo penso veramente ok ok allora allora domande della chat noi andremo a pescare a caso tra le domande che avete posto ovviamente evidenziato usando i punti canali ossia i gigovat chiamati in questo modo in onore di ritorno al futuro se non lo sapevate insomma vergognatevi no no gigovat mi ricordo che era nato un problema che uno voleva dire per forza gigovat e dico guarda no perché il riferimento al futuro è gigovat non possiamo hanno detto così all'epoca dissero così ma come non si dice dobbiamo di gigovat ah vedi questa è una scoop sì perché magari alcuni non si ricordavano semplicemente non che non abbiano visto il film ma questo particolare dell'Aoio me lo ricordavo bene sono dei particolari molto difficili da identificare in certi film anche bellissimi ce n'è uno che per esempio che adesso mi viene in mente Truman Show The Truman Show straordinario film sceneggiatura lavoro doppiaggio non c'è niente che non andasse una cosa bellissima da tutti i punti di vista in una delle prime scene quando ancora non si capisce nulla del povero Truman di quello che sta succedendo a un certo punto lui sta in strada e gli cade vicino una lampada una lampada sembra un lampione che lui raccoglie guarda per aria non capisce da dove sia caduto però sopra c'è scritto tipo Antares no nemmeno Antares sì Antares Y1 una cosa del genere io quando l'ho visto ho fatto un salto sulla sedia ho detto cavolo ma quella è la definizione di una delle stelle della costellazione non Antares deve essere una costellazione della costellazione dello zioaco che vengono chiamate con l'alfa e con con le lettere greche ingue ma allora quella è una volta celeste quando è finito il film ho capito che le costellazioni che erano sulla volta avevano tutti erano fatte bene quindi lui vedeva effettivamente il cielo come sarebbe stato solo che a un certo punto se ne era staccata una per un problema ed era finita a terra ma quanti si saranno accorti di questo particolare guardate che è una cosa affascinante noi abbiamo veramente degli input che ti mandano i regini io parlo dei film importanti che purtroppo molto spesso perdiamo perché non facciamo il tempo a vederli perché non siamo abbastanza a conoscenza di certe materie e veramente andrebbero poi spiegati certi film perché io se non avessi avuto quella passioncella ma chi se ne sarebbe accorto che quella era una stella di una costellazione ritruita e messa lì sul cielo dove doveva vederla Truman ma è stupendo fighissimo fighissimo sì queste sono quelle cose che ci piacciono ci piacciono veramente tanto infatti anche in chat Tommy scrive questa cosa non me l'aspettavo è vero è vero allora fatela rivedere adesso io posso aver sbagliato qualche dettaglio ma quello significa quella scena e non viene spiegata non si capisce rimane lì uno lo realizza quando a certo punto capisce che Truman è sotto un dome una cupola no infatti era è un film bellissimo che volevo rivedermi a breve quindi sono contento che è uscito questa chicca così mi andrò beh c'è il finale che non spoilerò per i pochissimi che non hanno visto che è straordinario dopo che è successo tutto c'è un finale che uno dice è vero è proprio così è andata a vedere perché è proprio così sì il finalissimo parlo dell'ultimissima scena credo gli ultimi 10-15 secondi ti danno un'idea del mondo di questi giorni anche dell'epoca perché insomma non è cambiato niente e di quello che significa la televisione di quello che significa divorare qualsiasi cosa ecco una cosa che non sopporto è che divoriamo tutto divoriamo tutto non c'è più allora raggiungere una meta significa anche fare un viaggio certo raggiungerla in poco tempo molto spesso conviene ma il viaggio è già la meta e allora se uno fa un viaggio troppo breve per raggiungere una cosa si perde tanto si perde tanto insomma i 10-15 secondi valgono non dico più del film stesso perché tutto è un capolavoro in quel film però danno l'idea di quello che siamo diventati ti aprono un attimo gli occhi sulla verità sì me lo ricordo ma la verità è là fuori ah è appunto è là fuori anzi è altrove è altrove è da un'altra parte è altrove non è qua non è qua la verità non è qua bella bella soluzione bravo Luciano non è qua non è a portata di mano non è da noi esatto esatto September dice che poi ora che ci penso Truman man significa uomo vero sì però è proprio Truman in realtà non è scritto true ma true eh vabbè però però sì c'è l'assonanza ci sta ci sta nel frattempo Marstrux dice l'amico era Harry di Sex and the City prima che parlavamo no? Harry di California Cash nel cui nome era Charlie Rankle del personaggio sì Rankle esatto Rankle beh è un personaggio straordinario simpaticissimo e Franco da straordinario attore qual è l'ha reso in un modo fenomenale Franco Mannella certo ma avrete già avuto ospite probabilmente perché no Franco Mannella no ancora non l'abbiamo avuto beh dovete assolutamente chiaro in un certo senso è comparso in una diretta però non l'abbiamo mai avuto è vero è comparso nella diretta mi sembra di Chiara Chiara Colizzi è sentita si è sentita una voce diciamo di fondo nello specifico di Roger l'alieno però però Roger l'alieno sì sì esatto lo conosco lo conosco esatto però sì Chiara Colizzi facendo Roger se lo ricordano ancora in chat ma dire mai magari nel futuro ci farebbe molto piacere poter fare una live anche con lui speriamo però però ecco il momento delle domande facciamo partire il jingle questo è un jingle molto esotico Gianni quindi immaginati non so arriva al mare con la palma sotto la palma del cocco con la nuce il mare mi piace non sono un montanaro invece ne sono un marino molto ah vedi bene bene le domande della chat le domande della chat le domande della chat le domande della chat eh ti sei medesimato eh no la sesta mi ricordo la melodia ma non mi ricordo che che è vero vero il limbo è come come il limbo ma sei sicuro il limbo forse forse lo ha ripreso una pubblicità ricordo che poi faceva Non lo so se è il limbo Non sono sicuro che sia il limbo Luciano Però me lo dico Ricordo bene E' il limbo Ci confermano anche Simona Ci scrive il limbo Però è un po' esotica Mi ricorda il mare Che devo dire Comunque la prima domanda in assoluto La premiamo sempre di Tommy Non so di che cosa stai parlando Tommy Però io la riporto così Magari Gianni si ricorda Buonasera a tutti Oggi vorrei chiedere a Gianni Il doppiaggio di Herbert West In Reanimator 2 Premetto che La mia ignoranza è materia Però io la ripongo Reanimator Non conosco Puoi tranquillamente dire che non ti ricordi Nemmeno io Vero Non ci ricordiamo Tommy Tommy Ci dispiace Qualche indizio Un aiutino Come dicono in televisione Dacci qualche aiutino Tommy E vediamo se poi Ci viene in mente qualcosa Intanto vado avanti Con la domanda Del nostro fanpage Che scrive Buonasera man Buonasera Lucio Spanchi e Gianni Grazie per essere qui con noi Vorrei chiederti Se puoi parlarci Della tua esperienza Di doppiaggio In The Oc Dove hai dato la voce Al personaggio Jimmy Cooper È una cosa che mi ha abbastanza appassionato Non è un genere che mi piace molto Era già iniziato il periodo in cui stavamo da soli a Leggio E quindi tutto colonna separata Quindi capivo poco della storia Nonostante il direttore di doppiaggio Mi raccontasse Ogni volta mi spiegasse le cose Però Non ero entrato molto Nel personaggio Nel senso Ho cercato di rendere al meglio Però Mi era difficile tenere In fila di tutto il discorso Però lo ricordo con piacere È stato un bel doppiaggio Ho detto Ci sono entrato poco dentro Per difficoltà obiettive Insomma Ok Ok Ma Nel frattempo Tommy ha specificato È una roba Al di fuori del normale Dove prende Aspetta È una roba horror Di uno scienziato Che fa esperimenti Una cosa paranormale Dove prende In vita E non viventi Non ho capito Vabbè Insomma È una cosa strana Una cosa strana Ancora peggio Non lo so Non mi ricordo Mi dispiace Mi dispiace Ma non Non mi viene in mente Non commenti Tommy Non commenti Tommy scusa tanto Ma proprio Non mi ricordo Vabbè Ci stavo Vorrei chiedere Roberto Vorrei chiedere A Giovanni Se può parlarci Dell'esperienza In Downton Abbey Dove ha dato la voce C'è il personaggio Il personaggio di Joseph Molesley Molesley È detto bene Molesley 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 È un nome che in parecchi Stentavano a dire Nel doppiaggio Molesley Molesley Un altro che Che difficilmente Riuscivano a dire Nel doppio Scusa se adesso Sbirazzo Ma Che difficilmente Riuscivano a dire Però questo in Iara Era il dottor È un altro nome complicato Era Adesso non mi ricordo Comunque Tornando a Molesley Molesley Ce l'ho nel cuore Molesley Ce l'ho nel cuore Perché è l'ultima cosa Una delle ultime cose Veramente belle Che ho fatto E Azzeccatissimo tutto Anche lì stiamo parlando Di un capolavoro Downton Abbey È un capolavoro Per chi Non ama Quel genere Di fiction Un poco interessante Ma Per chi poco poco È entrato nel gioco Di tutta la serie Dalla trasformazione Dei costumi Delle acconciature Che avviene Diciamo Dai primi del novecento Fino ad arrivare Ai primi Al 1925 30 Il muto E Naturalmente Non spoilererò Nulla Però guardatevi Anche The New Era La nuova era Che è l'ultimo film Il secondo E per ora Ultimo film Forse ne faranno un altro Che per Anche per chi Non ha visto la serie È un film interessante Ma per chi L'ha goduta È ancora più interessante E il mio Ha dei punti fenomenali L'unica cosa L'unico spoiler Che posso dire Che posso fare È che In tutta L'epopea Di Downton Abbey In questo film Specifico A un certo punto Viene In qualche modo Affrontato Il discorso Del doppiaggio Ma com'è possibile Andatevi a vedere Veramente Si parla del doppiaggio Andatevi a vedere perché Ma si parla In un punto In un punto Molto del film L'apparente Si riguarda molto Monsley In quel momento E vedrete perché Ok È curiosito È curiosito Beh Guardate E comunque Tornando invece Alla serie vera e propria Anche lì Mi sono molto divertito Perché i cambiamenti di Monsley Che è una figura Molto particolare E simpatica Ingenuo Molto timido Innamorato da sempre Di una Di una Allora Downton Abbey è diviso Diciamo in due grandi fasce La fascia che riguarda I proprietari E quindi i nobili I proprietari di Downton Abbey Che è appunto Una specie di castello Palazzo nobiliare Quasi un castello E la fascia bassa Che sono La cosiddetta servitù Di una volta E il mio fa parte Della servitù Prima è un maggiordomo Poi avrà altre mansioni E questo continuo balzo Da Da un ceto sociale All'altro Che però si confondono È reso veramente bene È reso con una dovizia Di particolari E sfumature Che Che affascina Veramente affascina Il film Assolutamente all'altezza Il secondo Di più Per quanto mi riguarda Perché il mio C'ha delle belle scele Ok Ok New hero Gianni si vede Che sei un grande intenditore Downton Abbey nel cuore Scrivono Man va a vedere il film Downton Abbey Se vuoi lo vediamo In videoparty Vediamo Vediamo Ci sono tante cose Che devo recuperare Insomma Però Tutta la serie Il discorso del doppiaggio Appunto Viene ripreso Proprio nell'ultimo Ho detto Anche non avendo goduto Del E non conoscendo Appieno la trama Di Downton Abbey È qualcosa Che si può Che si può Assolutamente vedere Comunque vi consiglio Vivamente Di vedere Tutta la serie Perché Non c'è Poi c'è una Maggie Smith È una bravura Eh lei La Megranit Mauro Quella che fa la Megranit Che ha capito Mamma mia È la cosiddetta vecchia È la vecchia La vecchia nobile Che è Di un sarcasmo Di una nitidezza In quello che dice È straordinaria È veramente straordinaria Mi è venuta voglia Di vederla Sì sì Guardatelo È un capolavoro Anche di recitazione Da parte di tutti C'è una parte fuori luogo Tra l'altro Gianni Hanno trovato Una certa somiglianza Tra te E un attore Che è Bill Murray Posso capirlo Un pochino Se mi vedeste di persona Non sarei così somigliante Però adesso che mi guardo Sullo schermo Ce la posso provare anch'io Grazie Poi Bill Murray È un mito per me Quindi figuriamoci Grande Bill Murray Dai tempi Dei Ghostbusters Ancora prima Dai tempi di Bruce Brothers Bruce Brothers appunto Grande attore Vero Mi è piaciuto molto Anche Lost in Translation Lost in Translation Poi affronta un argomento Che anche qui riguarda Molto il doppio Che cosa dipende Non è soltanto Quello Nelle traduzioni Che cosa non riesci a comunicare Traducendo da una lingua all'altra Ecco Una cosa che mi sarebbe piaciuto Molto fare E che non ho fatto È il dialoghista Ma non avrei raggiunto i risultati Che ha raggiunto Che hanno raggiunto i grandi Di Giacchier I grandi di questo mondo Ci vuole un genio E una cultura particolare Anche perché Qui questo che vuole dire E quindi ti industriavi Chiamavi l'ambasciata Parlavi con i tuoi amici cinefili Non lo so Ti inventavi qualcosa Per cui alla fine Riuscivi a raggiungere qualcosa Che come dicevo prima Magari Non era vero Ma era verosimile E comunque di errori di traduzione Anche nei doppiaggi storici Anche quelli fatti bene E di interpretazione Ce ne sono stati ragazzi Cioè Non è che l'età dell'oro Cosiddetta Quella in cui Ah come si faceva bene Se facevano delle cose Delle cazzate Si dicevano Delle grosse A me su tutto Viene in mente Guerra Stellari La guerra dei quoti Però guarda Guerra Stellari È ancora recente Io sto parlando di film Degli anni 60 Degli anni 50 Dei primissimi anni 70 Quando ancora Per molti Il doppiaggio Era sicuramente Fatto bene A prescindere La recitazione Era straordinaria C'era più tempo Per farlo E chi era al microfono Erano fior di attori Sappiamo tutti i nomi Non c'è bisogno Da partire da Cicoli Per arrivare Ai Graziani Alla Calavetta Con 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 Delle cose Veramente Da età dell'oro Però la recitazione Esulava da quello Che dicevano E potevano dire Stupidaggini Se sul leggio Il copione Riportava delle stupidaggini Ne sono state dette Tante Ora di più Perché ce n'è Tanta di più Di roba al fuoco Di Di carne al fuoco E quindi Gli errori si moltiplicano E sono Certe volte Anche difficili Da stanare Chiaro Quando hai parlato Una volta Non c'era Internet Da difficile Cioè nel senso Quindi Ti rifaceva la tua cultura Chiamavi Non so perché Mi è venuto in mente Come Una volta Quando si viaggiava E non c'era Il navigatore satellitare Che allora Eri costretto Andavi con le mappe Tutto Esatto Io dove mi trovo Dove è riferimento Cioè Andato un po' Effetto nostalgica Nella piazza di un paese Scendevi Entravi al bar Esatto Scendevi al barista O agli avventori Scusate Ma io devo andare a vedere Il cretto di burri Che sta da queste parti Comunque Io In Sicilia Per andare a vedere Il cretto di burri E ho detto Il navigatore Non ne voleva sapere Di portarmi là Sono sceso E ho chiesto A un abitante del posto Ah è quello che ha fatto pure Il cretto di burro Invece burri Non si chiama burro Ma si chiama burri E andai a vedere A Gibellina C'è stato Un terremoto Molto Devastante E Burri Sul luogo Delle rovine Creò Questo monumento Questa Costruzione In cemento bianco Che chiamò Cretto E viene definito Appunto Il cretto di burri Io in quell'occasione Ho fatto quello che facevo Quarant'anni fa Quando dovevo andare Da qualche parte Scendevo dalla macchina O tiravo giù il finestrino Guardavo quello Con l'aria di sveglia Perché Non mi ricette facce Che magari Meglio che non glielo chiedere Perché tanto Vissà dove manda Però è la stessa cosa Che telefonare All'ambasciata Come dicevo prima Piuttosto che chiedere Al tuo amico Negli Stati Uniti O a New York C'è Della realtà per sé Che Può suggerirti Soluzione C'era C'era anche quello Mia nipote La mia La più piccolina Adesso è già grandicella Ma quando era piccola Una volta mi chiede Come aveva fatto anche Al padre Zio Ma voi come facevate Senza i cellulari Perché seppe da qualcuno Che una volta Non c'erano i cellulari E allora mi fece Questa domanda Come di Ma è impossibile Vivere senza i cellulari Era piccolina E poi si accorta Che si può anche Vivere senza Ma è complicato Vivere senza i cellulari Sì È vero Io ancora mi ricordo A proposito dei viaggi Quando non c'erano i cellulari Che se partivi Con più macchine C'era magari Quella davanti E là dietro Che se partivi Di notte E le lucette E poi se disgraziatamente Te perdevi Era una tragedia Perché metti caso Andavi Al Trentino E te eri perso Magari la macchina dietro Non sapevi dove Te l'hai ripersa Come te l'hai ripersa Come andarla a recuperare E mi ricordo Sti momenti di panico Che però E poi erano anche belli Perché poi ti rincontravi E sembrava che avevi fatto Una di quelle imprese Enormi A proposito di questo Mi posso ricordare Mi è venuto in mente Il primo viaggio fatto Dopo la maturità Il primo campeggio Per conto nostro Una volta uno andava fuori Non dico quando c'era La maggiorità Ma quasi A 17 anni e mezzo Quello che erano Ci prestarono Delle macchine Per raggiungere la Calabria Noi partimmo da Roma In tre macchine Con quattro persone sopra Non ti dico Come erano cariche C'erano perfino Un fornelletto Invece che a gas All'iglia C'era una cosa Che stava 400 kg Solo quello C'era la macchina Che stava così Impennata Comunque La prima cosa Che dicemmo Vedendoci Allora ragazzi Partiamo Ma sicuramente Non riusciremo a stare insieme Ci vediamo Alla stazione di servizio Di sala consiglita Questo era il primo appuntamento Poi uno di noi Arrivò con un'ora e mezza Di ritardo Cominciamo pure A essere preoccupati E mai uno che andava A due all'ora Però Una volta ricostituito il gruppo Siamo ripartiti Dicendo Ragazzi Il prossimo È una prima risorsa Di che ne so Non mi ricordo Ragazzi Ottima soluzione Erano bei momenti Ma ognuno Ognuno della mia età Chiunque della mia età Potrebbe ricordarne I miliardi Di questi Appuntamenti Di questi movimenti Ecco Allora Salto le domande Su X-Files Perché ne abbiamo parlato prima Vado su questa Mr. Lannister Giovanni Puoi raccontarci Della tua esperienza Nella sitcom Statunitense Superstore Dove hai dato la voce Al personaggio Di Glenn Sturgis Molto Molto simpatica Quella serie Non molto apprezzata E non molto vista Però scritta bene E anche quella Mi sono molto divertito A recitarla Anche perché Era un personaggio Che in genere Non faccio spesso Mi è capitato Però insomma Per così tanto tempo Era un gay Non dichiarato Ma criptico Che Continuamente Cercava di Farsi valere Sul posto di lavoro All'inizio poi Aveva certe responsabilità Che molla E diventa Un impiegato normale Ha una moglie Che gli fa un po' Da paravento E molto molto divertente Veramente Poi fatto da poco Ecco Allora Tra tutti i personaggi Che hai doppiato Qual è quello Che senti più simile A te A livello caratteriale Ah sicuramente Il dottor Green Il dottor Green Ciccio No Ciccio Mi è sputato Sì sì Le stesse indecisioni Gli stessi dubbi Lo stesso modo Di fare Sempre Un po' Sul chi vive Perché Oddio Starò facendo La cosa giusta Sì 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 Moltissimo Non c'è paragone Con tutti gli altri Tenuto poi Talmente a lungo E poi anche lì Una di quelle serie La prima volta Che la vedemmo Il direttore Gianni Galassi Straordinario Dialoghista e direttore Quando arrivò Questa serie Nel 93 Se non sbaglio Disse Ragazzi C'è una cosa Fatta molto bene Che viene dagli Stati Uniti Che dobbiamo cominciare Abbiamo fatto i provini Tu fai questo Però ci direi Che noi vedessimo insieme Tutto il primo episodio Queste cose si facevano Ma in genere Per il cinema Per qualcosa di Per una serie Non era mai successo Allora ci sedemmo In sala mix Dove c'era anche Un grande schermo E un po' di poltrone E dopo 45 minuti Del primo episodio Ci siamo guardati in faccia Questo io roviniamo No Nel senso che è talmente bello Così che Come riusciamo A renderlo E a farlo bene Come si dovrebbe Abbiamo visto una cosa All'inizio C'è un piano sequenza Da Il piano sequenza Per chi non lo sapesse È Una macchina da presa Che prende un personaggio A un certo punto Lo segue Senza interruzione Senza Alt O stop Del regista Senza stacchi Brava Spanchi Che dopo aver tossito Mi hanno suggerito La parola giusta E lo tiene magari Per 30 40 50 50 Minuto e mezzo Tra i più grandi Piani sequenza Che la cinema ricorda E ce lo ricordiamo Perché il regista Era Sergio Leone È l'inizio Di C'era una volta In cui L'inizio Dell'arrivo del treno All'epoca non c'erano droni Quindi c'era un dolly La camera che riprende tutto il treno La gente che scende La musica di Morricone che sale La camera che sale sopra il treno Sopra la stazione Inquadra tutta la città E c'è questa musica trionfale Che avvolge tutti gli spettatori E noi vedemmo una cosa del genere Per la prima volta In una serie televisiva Cioè vedemmo quel piano sequenza Del dottor Green Che All'inizio non si vede nemmeno Si sente solo una voce Dottor Green È ora Di svegliarsi forse È l'infermiera Che gli dice Che le due ore Che poteva dormire In pronto soccorso Erano terminate Si doveva alzare Qui esce La porta E inizia Il casino Il corridoio Le salette emergenza Lui che si sposta Quello che piange Quello che ride Che gli hanno detto Che non c'è niente Insomma Adesso non ricordo nemmeno bene la scena Però Noi soltanto dopo Praticamente Un minuto e mezzo Di spettacolo Abbiamo detto Ragazzi Che Che c'è riuscito Siamo Inabili A rendere sta roba qua Invece no Abbiamo fatto un ottimo lavoro E nonostante il doppiaggio Sia qualcosa Che comunque tradisce In qualche modo Siamo riusciti a fare Un lavoro veramente Egregio E me lo dico E poche volte Me lo dico da solo Ma veramente egregio Ma poi ho avuto Troppi riscontri Perché la cosa Non fosse riconosciuta Anche da Illustri personaggi Conoscenti della materia E noi Assolutamente Assolutamente Un personaggio Che ancora tuttora Ricordato e amato Perché leggo ciccio Con tre cuori In chat Tristissimo Come esce di scena Li spoiler Allarme spoiler Comunque Insomma Non diremo niente Anche in questo caso Anche se Probabilmente Quasi tutti quelli Che in questo momento Sono in In chat No come la posso chiamare Mi sbaglio Mi sbaglio In chat In chat va bene Però sì Devo dire Che la fine del mio Non è stata Tra le più a lei E a un certo punto Pensate che io Una domenica No non era domenica Era un giorno Settimanale Il giorno precedente Avevo terminato Di fare ciccio Definitivamente Stavo ascoltando La radio Andavo Al lavoro In macchina E becco Platinet In latina Che parlava Non mi ricordo Qual era la trasmissione Io non ce la faccio Oggi a fare La trasmissione Che cazzo è successo E dice Una cosa Che mi riguarda Che riguarda Il personaggio Il personaggio Io Pianto La macchina Così Dico Ma dimmi Sto qui A sentire E questo E sta Sulla memoria E Platinet Mi omaggia In questo modo Perché in qualche modo Avevo omaggiato Anche Certo Che bello Che bello E Allora Vado avanti Zio Fester Era proprio Domandato Infatti Un'esperienza Su Mark Green Quindi Ne abbiamo Parlato Sì Questa Poi ce ne Ce ne sono Anche altri Però questa Era quella Che ha riguardato Tutti quanti noi Invece Quella che mi riguarda E che è stato Ci sono dei buchi Nel cervello Che ogni tanto Ti prendono C'era una scena Molto complicata E a un certo punto C'era Se non sbaglio La classica Il classico Passaggio Del paziente Dalla lettiga O barella Che fosse Al letto O viceversa No Era dalla lettiga Del pronto soccorso Alla barella O lettiga Che l'avrebbe portato Poi In sala Operatoria Al mio tre Tre Due Uno E poi si spostavano Io quel giorno Evidentemente Avevo Un antenato Britannico Dentro di me Parlavo In inglese Cioè Facevo Tre Due One No Direttore Gianni Hai detto One Va bene Rifacciamo Al mio tre Tre Due Uno One No Gianni Scusa Continua a dire One No Lo sai che L'avrò fatto Sei Sette volte Non so Io ero convinto Di dire Uno Ma io dicevo Uno Dicevo One Certe volte Degli automatismi Nel cervello Il tuo giorno Motivati da che Non era neanche Un periodo Che mi drogavo Particolarmente Quindi Ero anche Sobri Da tutti i punti di vista Non avevo bevuto Non mi ero sparato Niente In gola O Superindale Però Dicevo One Dicevo One Quindi ecco Questa è un'esperienza Di cui Ancora adesso rido Che rido Con i miei amici Molto carino Come aneddoto Anche perché appunto Quella volta Non ero da solo Non ero da solo Perché in sala Eravamo tanti Tutti a rido Tutti a dimmi Ma che stai Mettete L'incoglione E poi Il clima Di cogliardia Che c'era In quel periodo Tra noi Tutti Amici Partecipanti A IAR Era molto Molto Scrito Abbiamo fatto cose Un'altra cosa Che posso ricordare Sempre di quel periodo All'epoca Il merchandising O lo andavi A comprare Nei posti In cui nasceva O a Roma Non arrivava In Italia Non arrivava E Io andai a Londra In quel periodo Durante la Seconda serie La seconda stagione Di IAR E tra i tanti Negozi Che andai a visitare C'era quello Derinato A IAR C'era tutto Di IAR E naturalmente Io nell'imbarazzo La scelta Ho cominciato A comprare Roba Tutto spiano Uno delle cose Che ancora C'ho Era un camice verde Da sala operatoria Con iscritto IAR Sull'aereo In quel periodo Davano Una specie Di stetoscopio Per annullare Il rumore Dei jet Stessi Dei reattori Che era Sembrava Proprio uno stetoscopio Io me lo portai via Quando è scesito All'aereo Arriva in sala E c'era Fabrizio Che doppiava Protagonista Come si chiamava Adesso Non mi viene Il primo Il primo Il clune Che adesso Chi era Clune Non lo so Clune Esatto Che doppiava Clune Entra in sala Io ero già Arrivato All'Eggio Con Buio Con indosso Il camice verde E l'otoscopio Al colo Che era quello Dell'aereo Che sembrava Un proprio Uno stetoscopio Lui arriva Entra dentro Senza accorgersi di niente Prende la cuffia L'anello Non è che guarda A me Poi a un certo punto Prende la cuffia Guarda Fabrizio è un straordinario Attore Però romanaccio Come me Quando naturalmente Si esprime Con la più cruda verità Dice Che ti sei messo Senta che c'è Mi sono entrato Nella parte Il camice È stato scopio È stato uno scherzetto Carino Che riuscì molto E quella cosa lì Non esistendo ancora internet O comunque essendo ai primordi Come facevi ad averla Se non andai a comprartela A Londra In quel negozio Se l'avranno invidiata tutti Poi il camice Sì All'inizio All'inizio Quando vedevi queste cose Dice Madonna Ah Ma pure di X-Files Ho riportato un sacco di cose Perché andai pure in quel negozio là Perché le due serie Sono state coere Più o meno A distanza dei 6-8 mesi Cominciate E sono continuate ad essere Io in quel momento Ho avuto la fortuna E anche un po' Diciamo La bravura Di riuscire a trovare Due personaggi Uno da proprio protagonista L'altro Uno dei co-protagonisti Che c'erano sempre Bravi E in quel periodo C'erano quello C'era Friends Poco prima c'era stato Quello di Lynch Come si chiama La serie di Lynch Oddio mi sfugge il nome Dai che hanno fatto anche il reboot Man Ti piace a te? E come no? Certo Quello che piace a te Man Di chi hanno fatto il reboot? L'hanno fatto Ah Will & Grace Will & Grace Ma no No Era una serie Fantasiosa Molto Molto Doctoro Oddio Doctoro Dai chat Aiutateci Twin Peaks Bravo Twin Peaks Ah Twin Peaks Mi piace a me All'epoca Non esistendo le piattaforme Praticamente C'erano 4-5 serie In quegli anni E 4-5 erano queste Che ti ho detto C'erano 2-3 in più Dopo Non è che C'erano Quindi Quindi Se ne beccavano tutti Cioè io Ormai a me Mi conoscevano come ciccio Tutti Quanti Io addirittura Entrai una volta In un negozio C'era la signorina Tra parenti Di diventata un'amica Di spalle Batale Dene Di spalle Alla porta Che era Al computer O stava scrivendo qualcosa Io entro e faccio Mi scusi Dovrei chiedere Un'informazione Si è girata E fatto Fox Morgan Ti giuro Io sono rimasto Vabbè Sarà stata una pure Particolarmente dotata Non dico di no Anzi Sicuramente sì Io ho fatto Signorino Ma come ha fatto Riconosceremi Lo sto vedendo Tutte le volte Tutte le settimane Perché naturalmente Anche lì Bruciare Vedendosi Sei episodi In una notte È sbagliato Secondo Era molto Ma molto Ma molto Meglio Prima che Saperi Il mercoledì Se A nove Che la settimana Quell'episodio E continuavi A vedertelo Adesso pure io Lo faccio Figuriamoci Da Che ne so Da quelle simpatiche Di perdone Io non mi ricordo Come si chiama LOL Le fiche Un vero e proprie Me ne vedo pure io Due o tre Episodi Alla fine Mi riguardo così Ma li brucio Li brucio E non c'è il viaggio Non c'è il viaggio Per raggiungere la meta Vanno via Perché una cosa È vedere un episodio Una settimana Che aspetti il prossimo Ripensi a quello Che hai visto Ti entra dentro Certo Dopo una settimana E per motivi Puramente commerciali Ma questo riguarda Il 99% Del nostro essere Quotidiano Al mondo Per motivi Puramente commerciali Questo è Questa è la modernità Però come al solito Non voglio fare Discorsi da vecchi Sarebbe successo Ugualmente Ed è successo Mi dolgo Che certe sensazioni Non vengano Recepite Non vengano Sentite Anche da tanti giovani Che non sono abituati A questo tipo di mondo Ma ogni generazione Ha vissuto una vita Da giovane Una da Diciamo da mezza età E una da anziano Se c'è arrivato E quindi Ha visto passare Delle cose Durante il risorgimento Qualcuno avrà detto Eh se avessi visto I battagli Che abbiamo fatto A Curtatuna A Montanara Probabilmente sì Probabilmente sì Anzi sicuramente sì Sicuramente sì Io Leggo Simona Prima erano tempi duri Dovevo aspettare Una settimana Per sapere Come andava a finire Però io Sai che lo preferivo Perché mi ricordo Che ho avuto questa Stessa cosa Con Doctor House Che era una serie Che amavo E per me Doctor House È stata straordinaria Esatto È una serie Posso dire una cosa al golo? Come no? Mi piace Mi piace moltissimo Proprio per il carattere Totalmente diverso Dal mio Di Doctor House Doctor House Era l'antitesi Di Ciccio L'antitesi Però è bello Per quello Era un po' come In qualche modo Il Dottor Romano In Iaro Sempre cinico Sempre spietato Sì è vero E quindi mi ricordo Proprio questa attesa La felicità Dell'arrivare il giorno E la sera Nel vederselo E quando te lo vedevi Lo vedevi Veramente lì Concentrato Perché sai che Non c'era una seconda chance Quindi ti godevi Ogni momento Ogni minuto Ti mettevi là Invece adesso Può interrompe Ritorna indietro Non lo so Io preferivo Guarda Andando sulla letteratura Leggetevi un libretto Straordinario Di Italo Calvino Che è Lezioni americane Tra le lezioni americane C'è l'elogio Della lentezza E c'è del vero Mi datevelo a leggere L'elogio Della lentezza Lezioni americane Italo Calvino Ok Ma poi prima Era veramente complesso Recuperare episodi A posteriori Sì era complesso Perché facevano Mi sembra Una replica E se perdevi Quell'addio Ti è riperso Proprio tutto l'episodio E loro andavano avanti Quindi sì 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 è vero Anche questo Purtroppo Poteva capitare Sì È vero Allora Allora Io andrei a leggere Se sei d'accordo Gianni Le ultime due domande Perché la nostra politica È quella di non sequestrare I nostri ospiti Sono molto molto carini Gianni è stato molto disponibile E poi andiamo a chiusura Va bene? Madonna Sono già le 23.10 Ci stai prendendo Il computer Hai visto? C'è due ore che stiamo a chiacchierare? Sì È volato E non sono scappati tutti Non sono scappati No per niente Casomai Che resilienza Come si dice Quindi facciamo le ultime due domande E poi andiamo in chiusura Vediamo Vediamo Dove posso pescare Pesca bene No pesca bene Vado a caso Poi se fanno schifo Non è colpa mia Puoi parlarci Della tua esperienza Di direzione Del doppiaggio Nelle prime due stagioni Di Hamburg Distretto 21 Sì Mi ricordo Mi ricordo Molto bene Anche qui C'è da raccontare Un aneddoto Hamburg Distretto 21 È una serie Triziesco Barra giocosa Perché poi alla fine Sono tutti buoni Pure i cattivi Comunque insomma Una serie che parla Di un distretto di polizia Appunto di Hamburgo Dove avvengono Le solite cose Micidi Però sempre Con i cattivi Che non sono cattivi Fino in fondo È gustosa È carina Un prodotto tedesco Come tanti Fatti bene Che ormai i tedeschi fanno È ormai da parecchi anni Insomma È quella con una serie Che io ho preso in mano Insieme a Eleonora De Angelis Come direzione Ci siamo spartiti Praticamente Un episodio sì Un episodio no Perlomeno un po' per uno Adesso mi ricordo bene E ci siamo divertiti a farlo Perché la distribuzione L'abbiamo fatta insieme Dei personaggi Ci fai rifare Insomma È stata Una bella esperienza E A proposito di questo Alla fine Della seconda stagione Io Sempre per un viaggio Che ho fatto Andai casualmente Dico casualmente Perché Non riuscivo a trovare Una buona Mediva In Europa La prima Che mi si apri Fu Hamburgo E Andai in rete Prenotai questo viaggio Andai ad Hamburgo A un certo punto Sulla banchina Dell'Elba Perché sembra un mare Ma quello In realtà È il fiume Elba Infatti c'è scritto Elb Krankenhaus Il nome dell'ospedale Cioè L'ospedale Sull'Elba Vedo da lontano Una costruzione Che mi ricordava qualcosa Ma come il commissariato De Hamburgo Faccio una corsa Arrivo sotto A questo piccolo edificio Era Un parallelepipedo È un parallelepipedo E vedo il commissariato Che io conoscevo A mena dito Potevo pure Entrarci dentro Entrata in stanza Ed era veramente Un commissariato Era un commissariato vero Sì sì Era un commissariato vero E di fronte c'era Un edificio Che era Che era vero Anch'esso Ma non era Un ospedale Infatti Elb Krankenhaus Cioè il nome Dell'ospedale Si La sei Era In verità Stato appiccicato Elettronicamente Ma quello non era Un ospedale Ma sono rimasto Anche quando sono tornato Raga ho fatto la ripresa L'ho mandata A tutti i miei attori Che lavoravano a quella cosa E l'onore Ero Guarda qua Dove sto E ho fatto la ripresa Davanti Ed è stato veramente un caso Non me lo sono Tutti dicono Ci sei andato apposta Giuro su mia madre Che è stato assolutamente Un caso Che mi sia trovato lì Davanti al commissariato Eh Dio Mazza le coincidenze Beh non avrei detto Fosse un commissario Veramente È un commissariato È un commissariato È vero Quelle parallele vivido lì È un commissariato Ok Ok E Ultima domanda Invece Andiamo No Come ultima Dai Continua Attenzione Questa può essere Un'affermazione Molto pericolosa Da fare Oddio Esatto Favamo l'ultima Esatto Favamo l'ultima Allora Intanto c'è un commento Che è arrivato Che scrive Che bello vedere Un professionista entusiasta Dei prodotti che ha doppiato Al punto di voler Del merchandising O di visitare i set È bello Effettivamente È molto Sì Insomma Sempre Tornando alla curiosità Che mi ha sempre animato Questa c'è Ancora nel mio lavoro Sempre più complicato Trovarla Ormai stiamo raschiando Il fondo Però insomma C'è ancora Ok Sto scorrendo Tra le domande Senti Ti lascio scegliere a te Di che vuoi parlare Di Flashpoint O di Peaky Blinders Belli tutte e due Peaky Blinders È una delle belle serie Che si siano viste In questi ultimi anni Flashpoint L'hanno vista in pochi Se ne sa poco La famosa frase Scorpio Quando mi diceva Scorpio Significava che in quel momento Si doveva Tirare su qualcosa O comunque Iniziava l'azione Peaky Blinders Ho dovuto fare una voce sgranata Uno strano Gangster Che in cui Non mi riconoscevo Però Sì È venuto bene Grazie anche a Lorenzo Il direttore Quando mi sono risentito Per caso Un giorno Voi direte Ma tutto per caso Gli succede a questo Ragazzi Stavo girando Io non avevo visto Il mio episodio In genere Tendo a non vederle Le cose A meno che non mi interessino Per qualche motivo Le cose che faccio io E Ho visto questo pezzo Ho detto Oh So credibile Potevo pure Fare il gangster Nella vita No Finta Poi vorrei Muore pure lui No lo devo dire Ebbè Questo piccolo Boiler C'è stato È uscito È uscito È un po' di tempo Quindi ci sta Bene 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 Allora Amici di Twitch Siamo giunti anche Tutte le cose belle Ovviamente Hanno una fine Siamo giunti Alla conclusione Di questo bellissimo Toad Dove vado Ovviamente a ringraziare Tutti voi Che ci avete seguito Grazie a tutti voi Chi dall'inizio Un ringraziamento di più Chi in corso d'opera Un po' di meno Ma comunque vi ringraziamo tutti Grazie a Mod Per l'attimo lavoro svolto Ai miei colleghi streamer Di questa sera Spanchi e Luciano Però il grazie più grande Insomma va Gianni Gianni grazie mille Siamo stati benissimo È stata una bella chiacchierata Allora guarda Il complimento più bello Che posso farvi È che non mi sono accorto Di come stava scorrendo il tempo Quindi è andata veramente alla grande Per quanto mi riguarda Che bello Grazie Noi questo complimento Ce lo prendiamo E ce lo portiamo a casa Proprio così Grazie Grazie mille Bene Quindi Curiosità ragazzi Sempre Messaggio che mando Siate curiosi Siete curiosi Chiedetevi sempre Perché succedono certe cose Non cercate a tutti i costi I complotti Perché i complotti Ci stavano certe volte Ma non sempre Però Entrate di più nelle materie Cercate in ogni modo Di andare a sviscerare Poi magari Non riuscite ad arrivare in fondo Come non ci sono riuscito io Però Quanto meno Iniziate un percorso Poi dopo Deciderete come Terminarlo Se terminate Bello Bello Questa è veramente Qualcosa da prendere E da Fissare lì Quelle frasi Non siate curiosi Invece Ogni volta che vediamo Spanchi in là Ci domandiamo Ma perché Poverina Ancora cerchiamo La risposta Chi l'ha scritto Chi è il macro È arrivato Cicciomora Ah vabbè Grazie a tutti A meno che a Luciano Perché freghi le domande Luciano Eh sì Quindi non ti ringraziano Eh Che poi cosa Non so se l'ho fatto Prima un attimino Vedi Ah è il pop Di Fox È un mazzo È capito Bellissimo Io posso farvi vedere Una cosa Se volete Volentieri È volo O è troppo tardi Va bene È volo La vediamo La vediamo volentieri Allora un attimo Però devo Staccarmi Adesso sono curiosissimo Chissà che cos'è Il camice di AR Il poster Ok un pupazzetto Vediamo Vediamo Sono curioso Questo me lo regalò Un fan di X-Files E In una delle tante convention In cui fui Invitato Bello Che bello È marmo Il mezzo busto Ah proprio marmo Il mezzo busto Di Fox Mod Bellissimo Bellissimo Che pesa È un bellissimo ricordo È un bellissimo ricordo Si chiamava Mocchetti Il ragazzo che me lo regalò Luciano Ti ha fregato E il suo è molto più bello Del tuo posto Molto È fatto ancora Come all'età della pietra Con scalpello E martello Bellissimo Bellissimo E poi spanchi Magari Sì A quel A quel mezzo busto Gli si potrà far Avvicinare Il Il Come si dice Lo sketch Che gli ha fatto Simone Bello Sì sì Lo porterò Appena lo stampiamo È vero È vero È vero Il suo molto più grande Di marmo Signore di Twitch Parliamo di Fox Mulder Ovviamente sì Ovviamente sì Quanto siete maliziosi Comunque Comunque ovviamente Grazie mille ancora Gianni Noi ci vediamo domani Con un nuovo appuntamento Sarà un let's play Special live show A casa della nostra Spanchi Location perfetta Per fare queste cose Dove giocheremo Tutti insieme a Cranium Con un gioco in società Con degli ospiti Che sono transitati Su questo canale Che verranno Per la prima volta Lorenzo Grisci Sara Rabidi Benedetta Agli Innocenti Davide Perino Che saluto Davide è simpaticissimo Luna Agli Anzante Mi sono dimenticato Che eravano sei E un sesto Benedetta L'ho detto Benedetta E un sesto Va bene Vedrete poi Nella locandina di domani Così me la cavo Il disegno invece Bellissimo di Simone L'ho trovato Giulio Bartolome Il disegno di Simone L'ho trovato invece Sul canale Telegram Per chi è iscritto Per chi non è iscritto Punta esclamativa Telegram E andate Bene Sempre se io domani ci so Perché sto facendo Una fatica incredibile Con questa gola E quindi spanchi In caso te la gestisci te Giusto? Ma certo Che ci vuole Che ci vuole Che ci vuole Tanto mi stai facendo Le macumbe Per andare all'altra Assolutamente no Mi servi Mi servi Mi servi Senti Gianni è proprio Una brutta Una brutta persona Guarda Brutta 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 Buona Eh No dico La frase famosa Di Filippo Tua madre Non serve Il Natale In casa cupiello È vero È vero Quindi buonanotte a tutti Ci vediamo domani Grazie ancora Gianni È stato un grande piacere Speriamo di rivederti presto Buonanotte anche Ciao